cari signori uscito inquilino birichino la terapia d'urto per inquilini insolventi e prepotenti che cos'è è un video percorso dedicato a tutti quei proprietari che hanno a che fare con degli inquilini che non stanno pagando l'affitto o quegli inquilini che sono prepotenti e stanno facendo questo che gli pare allora cosa ho inserito all'interno di inquilino birichino innanzitutto 30 anni di strategie di tecniche di terapie che aiutano aiuteranno te proprietario proprietaria a piegare i tuoi voleri l'inquilino perché perché voi proprietari quando l'inquilino inizia a non pagare più a essere insolvente a fare quello che gli pare voglia andate dietro che cosa significa gli mandate qualche messaggino gli consentite gli dici o che bellino che carino o mi dispiace sì dai cioè l'inquilino inizia ad essere lui il burattinaio e voi il burattino e quindi questo non lo dovete permettere all'interno di inquilino birichino ci sono le tecniche per riprendere il controllo del vostro affitto e di fare in modo di rimettere in riga gli inquilini che fanno i furbetti e di cacciare quelli che sono insolventi e prepotenti ok ci sono le tecniche senza bisogno di avvocati senza bisogno di commercialisti lo potete fare in autonomia naturalmente un video percorso che voi dovete seguire passo dopo passo perché se voi volete far di testa vostra lasciate stare se invece voi volete seguire le tecniche le strategie che cambieranno per sempre il panorama delle locazioni in italia cambieranno per sempre perché come al solito mickey lancia sul mercato dei prodotti che la maggior parte delle persone se ne sognano perché perché ho messo insieme una visione che ho da 30 anni a questa parte sulle locazioni quindi vi permetterà davvero di essere diretti di riprendere il controllo sul vostro immobile di incassare gli insoluti che gli inquilini hanno lasciato con voi di rimettere in riga di fare in modo che quegli inquilini che stanno smettendo o se ne vanno di casa o si rimettono in riga e se siete anche per mani di avvocati attualmente cioè che siete in una causa di sfatto ci sono le tecniche che vi permetteranno di dire certe cose all'avvocato di non fare certe cose con l'avvocato e vi permetteranno veramente di guidare esattamente passo dopo passo quale sarà il risultato perché altrimenti sarete vittime delle circostanze vittime di quello che gli altri vogliono per voi e quindi accetterete qualsiasi cosa qualsiasi cosa quale sarà sarà il risultato di un esborso economico pazzesco di una salute che ci andate a rimettere molto probabilmente perché poi ci rimettete anche quella di notti insonni di tutto quello che ci va dietro in uno sfratto in una locazione con un inquilino testa di c ok quindi all'interno di inquilino birichino è un video percorso a prova di nonno anche se voi non sapete usare il computer non importa dovete ascoltare le video lezioni vi permetterà passo passo di acquisire delle conoscenze e delle competenze che sarete dei proprietari con gli attributi se siete delle proprietarie avrete lo stesso in modo metaforico però avrete gli attributi e la maggior parte degli inquilini cioè quelli più furbetti a voi vi faranno un baffo perché saprete esattamente poi successivamente mettervi in casa anche l'inquilino giusto perché apprendete come agiscono gli inquilini furbetti ma soprattutto avrete a che fare solo con l'inquilino di un certo calibro questo successivamente ma se all'inizio siete alle prese con questi inquilini che sono dei vorrei dire qualcosa ok ma non posso dirlo riuscirete davvero avere il controllo riuscirete davvero a metterli in riga scullacciarli e ottenere quello a cui aspirate da tempo dunque sopra questo video sotto questo video c'è un link un bottone da poter cliccare e ci vediamo all'interno di inquilino birichino a presto